Drammatico incidente in Salento nel pomeriggio di martedì, intorno alle ore 16 lungo la strada provinciale 366 che collega le marine di San Foco e San Cataldo, una Fiat Punto con a bordo una coppia di coniugi uscita fuori strada andando a schiantarsi contro un albero situato in una campagna che costeggia la carreggiata. Ad assistere alla drammatica scena sono stati gli automobilisti che hanno prestato i primi soccorsi ai due feriti in attesa dell'intervento dei sanitari del 118. Questi ultimi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo un 62enne originario di Lecce che in seguito all'impatto è morto sul colpo. La moglie invece una 68enne anch'essa originaria di Lecce è stata condotta con codice rosso presso l'ospedale Vito Fazzi. Per permettere agli operatori del 118 di prestare le cure necessarie a malcapitati ed estrarre i feriti dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco partiti dal comando provinciale. Spetterà i carabinieri del comando compagnia di Lecce chiarire le cause del sinistro alla base potrebbe esserci un colpo di sonno che ha fatto perdere il controllo del mezzo alla donna finendo contro l'albero di olivo.